Dobbiamo fare in modo che ogni dossier abbia la sua autonomia e sia messo in relazione agli altri. Cioè noi qua abbiamo da una parte il PONmetro, da una parte abbiamo i fondi europei con la programmazione regionale, dall'altra abbiamo il patto per Napoli. Noi dobbiamo evitare che le risorse siano sempre le stesse, perché altrimenti noi rischiamo di fare il gioco delle tre campanelle, non noi, città. Quindi ci deve stare un luogo in cui ci sono le risorse per esempio per la metropolitana, o di un'altra linea di finanziamento, e un luogo in cui c'è il patto per Napoli. Il patto per Napoli è qualcosa in più, cioè se nel patto per Napoli noi troviamo le stesse risorse della programmazione 2007-2013, che Caldoro non ci ha dato, che De Luca ancora non ci ha dato, è chiaro che questo non è un patto per Napoli, è semplicemente un'ulteriore riallocazione sempre dei stessi soldi. Quindi ecco perché noi consideriamo molto importante questo tavolo a Palazzo Chigi, perché il tavolo a Palazzo Chigi consente di chiarire bene queste situazioni, che noi le volevamo chiarire da tempo, in modo che ci sia ogni dossier che ha la sua autonomia e la sua forza in relazione agli altri. Po metro, patto per Napoli, programmazione comunitaria, l'impegno che fa il Comune, e questo è il modo migliore per lavorare. Se nei prossimi due o tre giorni questa situazione si chiarisce, allora è chiaro che i tempi saranno molto rapidi.